Ah, tu non passò dalla Cina! Appena passato il confine, eccoci in Laos! Siamo a Luang Nanta, nel nord del Laos, il posto ideale per scoprire le tribù locali e la natura. Ma han detto che c'è una cascata da paura! Andiamo! Eccola nel suo splendore! Manca l'acqua! E in Laos, a sorpresa, troviamo una baguette ripiena! E io me la magno tutto! Dopo due mesi, il primo panino! Con la moto stiamo percorrendo la strada che ci porterà a Muang Sing, a nord del paese. Ah, tu non passò dalla Cina! Musica Musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.